Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Allora ragazzi, se avete aperto questo video è perché vi interessa sapere cosa fa Savix. Oggi ho attivato gli abbonamenti, dopo circa due anni di canale abbiamo raggiunto i 3.000 iscritti raga e quindi mi pare giusto attivare gli abbonamenti. Era una cosa che già pensavo di fare da qualche giorno e quindi stamattina mi sono svegliato molto bene e ho attivato gli abbonamenti. Ora vi spiego perché comunque sia chi si abbonerà avrà degli agevolamenti. Non parliamo di agevolamenti di money, ragazzi, aggiunte, cose varie perché non mi pare il caso, però dei glitch inediti diciamo solo per gli abbonati. Di cosa parliamo? Parliamo del beef raga perché il beef raga è una cosa immensa e vi devo dire la verità anche Savix non conosce il beef alla perfezione perché il beef non è fare i completi e basta o fare dei merge come dicono. Il beef è un metodo per fare determinate cose, per fare tante cose perché in beef puoi fare di tutto raga, di tutto. Non finisce mai il beef. Possiamo fare le aggiunte, possiamo fare i vestiti, possiamo farci le scorte, possiamo farci le sessioni, possiamo fare qualsiasi cosa in beef. Possiamo giocare con una console frizzata mentre non spendiamo un cazzo mentre giochiamo, possiamo fare un sacco di cose. Si può fare il beef massivo senza chiudere mai C1, ci sono determinati componenti, ok, che portano degli outfit. Ciò cosa vuol dire? Si prende un componente A, ok, lo si merge insieme al componente B e esce fuori C. Ok raga, in questo caso posso prendere un caschetto ad esempio, mettiamo su C1 un caschetto, ok, mettiamo su C2 la variante del caschetto che porterà il colore raga effettivo e abbiamo fatto praticamente il merge, ok, questo è una piccola parte. Partiremo dalle cose basi raga, partiremo da dei Jokers, partiremo magari dai caschetti, partiremo dalle cose più semplici per poi arrivare a fare di tutto raga, uguale con le aggiunte. Vi insegnerò a fare le aggiunte dell'Axo, ok, vi insegnerò come farlo nel modo sicuro. Ovviamente, vi ripeto, ovviamente, per le aggiunte magari dell'Axo, che è una cosa un po' più particolare, bisognerà abbonarsi al terzo livello. Per magari i Jokers, bisognerà abbonarsi tipo al primo livello raga, quindi a seconda della cosa bisogna fare l'abbonamento. Quindi vedete voi cosa volete fare? E niente raga, ci sentiamo, alla prossima. Sba-da-ba! Ciao! 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 Ciao!